Coach Paolo Moretti scommette tutto sul gruppo. La chimica tra i suoi ragazzi che si dovrà creare dentro e fuori dal campo è importantissima per il tecnico. Per questo la preparazione estiva dell'Andrea Costa scatterà in anticipo tra una decina di giorni con l'obiettivo di amalgamare il roster e trovare unità di intenti. La presentazione della nuova guida tecnica è avvenuta venerdì all'hotel Donatello di Imola con la figura anche di Giampiero Domenicali. La possibilità di costruire un gruppo partendo da quelle basi che abbiamo già detto e magari plasmarlo secondo quelle che sono le mie idee e il lavoro che faremo e magari rinforzarlo nel corso di questo periodo per poi ottenere i risultati più importanti possibili. Per quanto riguarda gli obiettivi sportivi credo che ce n'è più di uno. Come ti ho detto prima tutto parte dalla costruzione di una buona chimica e da formare una squadra da un gruppo di giocatori il più breve tempo possibile.